Buon pomeriggio a tutti, è con grande piacere che noi intendiamo dare il saluto alla festa dell'albero dell'edizione 2021 con questo incontro che per noi corona un grande progetto del nostro anno di attività, di servizio. Un progetto importantissimo che ci permette di mettere in risalto i locali della regione Emilia-Romagna presenti in questa regione e che sono stati oggetto di un grandissimo lavoro dei tanti colleghi del servizio patrimonio culturale insieme ai colleghi di altri servizi della regione e in particolare del servizio aree protette Foreste e sviluppo della montagna. Ecco, è una giornata importante perché presentiamo un volume che è il frutto, il frutto veramente molto bello, molto poetico, molto corretto e dettagliato di questo lavoro che penso dimostri a tutti noi come i monumentali non sono quello che evidentemente sono per prima cosa, cioè dei giganti verdi e delle eccellenze del patrimonio naturale con un'importanza fondamentale ma sono parte integrante, porta di accesso al patrimonio culturale e paesaggistico di cui la nostra regione è ricchissima. Ed è bello che oggi questa festa, questo benvenuto alla festa, venga dato innanzitutto in presenza, in presenza con un numero ancora crescente degli ospiti qui. Ed è bello perché con noi ci sono istituzioni importanti a livello nazionale e altri colleghi regionali, oltre che la presenza molto importante e significativa della Fondazione Villa Ghigi. Ecco, e quindi è davvero un ringraziamento sentito quello che voglio dare ai relatori che hanno accettato di passare questo pomeriggio con noi e di portare il loro contributo. E quindi con molto piacere saluto Laura Canini, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in particolare della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste, con cui si è fatto un lavoro di stretta collaborazione e di interfaccia che ha portato dei risultati e delle collaborazioni significative e che auspichiamo possano continuare e possano svilupparsi ulteriormente. Con noi c'è il collega dell'Ufficio Rete Natura 2000 e attuazione della Comunità Riabita, del servizio, come dicevo prima, aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Minia, Francesco Bezio, che saluto molto caramente. E come vedete sono persone e figure che nella quotidianità del lavoro del nostro servizio ormai sono di casa e con cui la collaborazione tocca aspetti specialistici, tecnici, ma con cui davvero è avviata serenamente una collaborazione che condivide una valorizzazione piena a 360 gradi degli alberi monumentali. Poi, e la ringrazio caramente, c'è Rosella Ghedini, che è anche una coautrice del volume che oggi si presenta e che appunto è parte del servizio patrimonio culturale e in particolare dell'Ufficio Promozione della Qualità del Paesaggio e della Natura. E poi ringrazio ancora pubblicamente Mino Petazzini, direttore della Fondazione Villa Ghigi, che ci porterà un contributo ancora riprova di quanto appunto il ventaglio ampio degli aspetti che gli alberi monumentali ci pongono possa aiutarci a una rigenerazione sia individuale che collettiva grazie alla loro presenza, alla loro vitalità e anche al fatto di essere così integrati nelle nostre realtà e in un paesaggio che muta, che cambia, che si trasforma, che subisce delle trasformazioni e non sempre le sceglie, ma che diciamo sono testimoni comunque di una capacità di trasferire valori che vanno oltre i singoli momenti storici. E poi le conclusioni ovviamente le lascio a Fabio Falleni, che è il responsabile per il mio servizio dell'Ufficio Promozione della Qualità del Paesaggio e della Natura. Qui a fianco a me c'è Carlo Tovoli, che è un altro componente importante del nostro servizio per quanto riguarda la comunicazione. Ecco questo per dirvi come davvero ancora una volta, come già in altre occasioni recenti in questa sala, il servizio propone e restituisce alla comunità degli appassionati, degli esperti, dei tecnici, dei colleghi della regione e di appunto specialisti e anche di altre istituzioni, un lavoro che quotidianamente continua, ci impegna, ma che in qualche modo ci gratifica e ci motiva sempre di più grazie anche a questi risultati. Annuncio soltanto che è previsto il saluto del nostro assessore alla cultura e al paesaggio Mauro Felicori, che però oggi ha una giornata davvero densissima di impegni istituzionali e quindi lo aspettiamo e sperando appunto che riesca almeno a passare per un saluto, discluso in anticipo, se dovesse succedere magari di avere un'interruzione magari in coda o durante qualche intervento intermedio. Quindi io davvero auguro a tutti di passare insieme questo pomeriggio con serenità, con il desiderio di approfondire quanto questo volume ci presenta e convinti che insieme potremo anche progettare di nuovo insieme per il prossimo futuro. Grazie. Grazie. Grazie.